Allora aspettate perché c'è Riccardo che scrive se ti butti nella lava ti dono 75 euro Allora bro se sei serio lo faccio anche perché guarda il mio inventario Sono full diamante, c'ho un sacco di cose addosso Se sei serio lo faccio Sei serio, fallo e ti dono Va bene bro, cioè io lo faccio davvero, non c'ho assolutamente problema Ho detto te, 3, 2, 1, via Mamma mia cosa ho fatto raga No raga cosa sto facendo Chat l'ho fatto eh, chat l'ho fatto Ok, sono respawnato qua nel primo punto tra l'altro Vabbè ma per 75 euro Bro stavo scherzando Ma come bro stavo scherzando?